Un bilancio che chiude ormai la legislatura e che contiene ormai le proposte elettorali di Bonaccini perché va a recepire tante proposte che noi in questi anni abbiamo fatto. Il reddito di solidarietà che era stato promosso inizialmente da noi, che è stato recepito, viene rifinanziato e viene inserito il super ticket, una risoluzione approvata in aula già due anni fa ma mai applicata. Oggi quando siamo verso la scadenza della legislatura Bonaccini la tira fuori dal cappello e si propone anche il taglio dell'Ires in montagna, anche questo noi l'avevamo proposto tanto tempo fa. Ovviamente su questi pezzi di manovra siamo d'accordo, non siamo d'accordo sul taglio complessivo perché questa regione finora ha tagliato tantissimo in sanità, vedete i punti nascita chiusi nelle nostre montagne con un caso anche ieri di una mamma che ha dovuto partorire in ambulanza. Vedete l'inefficacia sul piano aria dove i sostegno e i finanziamenti per la sostituzione delle auto, la rotamazione delle auto ancora non c'è nonostante gli annunci, mentre al governo in questo momento parte l'eco bonus. Ecco noi ci aspettiamo che anche questa regione arrivi ma non solo alle scadenze elettorali.